Orgoglio Andriese, orgoglio di una città che per la prima volta nella sua storia ha potuto vantare un proprio figlio impegnato ai giochi olimpici. Merito di Francesco Fortunato in gara a Tokyo nella 20 km di marcia. Tantissimi gli appassionati che si sono radunati nel chiostro di San Francesco per fare il tifo per lui. Ho sentito tantissimo la vicinanza della città, poi rivedere il servizio che avete fatto con i bambini che festeggiavano, mi sembra quasi come quando l'Italia ha giocato gli europei di calcio. Per la marcia e per l'atletica è un traguardo grandissimo quello di aver coinvolto così tante persone. Onorevole, quindicesimo posto alla prima partecipazione olimpica della carriera per il 26enne portacolori delle Fiamme Gialle. Sono soddisfatto della mia prestazione, avevo dichiarato che volevo arrivare nel 15 almeno perché avevo il quindicesimo tempo di accredito in partenza, quindi perlomeno ho soddisfatto delle aspettative minime. Potevo, cioè speravo qualcosina meglio ma non ho veramente assolutamente niente da recriminarmi. Ha raggiunto il sogno che ha rincorso per tanti anni Fortunato, ma gli stimoli per ripartire non mancano di certo. Dopo la vittoria di Stano e Palmisano è facilissimo trovare nuovi stimoli. Non posso che pensare di voler fare anch'io quello che hanno fatto loro, quindi da adesso le mie prospettive sicuramente cambieranno ancora. Questo per me non è che è stato un punto di partenza, è un trampolino di lancio per sperare e lavorare in ottica di una medaglia alle prossime edizioni. Parigi 2024 è già nella sua testa, mancano tre anni al prossimo appuntamento olimpico e nei prossimi tre anni ci sono tanti altri eventi prestigiosi a cui Fortunato vuole essere presente. Preparare intanto la prossima stagione, ma l'obiettivo deve essere quello di arrivare pronto tra tre anni con un bagaglio di esperienze di un certo livello, quindi nel mezzo l'anno prossimo ci saranno già europee e mondiali. Il programma è quello di fare il meglio possibile, cercare di fare sempre una gara di testa per acquisire più esperienze possibile tra l'elite mondiale e arrivare pronto tra tre anni a qualsiasi situazione per poter poi giocarmi una medaglia lì.